Nello scorso episodio siamo riusciti a scappare da quella macchina in mezzo alla foresta Ma questa volta dovremmo scappare da un bagno davvero terribile Ehi ragazzi, come va? Io sono FeriNiki Io sono Stef, e questo è già che mi escape the bathroom Esattamente, dovremmo cercare di scappare proprio da un bagno Non è la cosa più bella del mondo ed appunto per questo che cercheremo di scappare Esattamente, stiamo scegliendo sempre dei luoghi un po' strambi Prima una foresta totalmente buia di notte con una macchina blindata Adesso un bagno, non so cosa ci sarà nel prossimo episodio degli escape Ma sinceramente preferisco non saperlo già da adesso Ah no, neanch'io, neanch'io Potrebbe essere l'inferno Partiamo subito, dobbiamo essere seri Lo scorso episodio abbiamo capito che ancora non siamo dei veri esperti Perché ci siamo dimenticati di controllare il soffitto Quindi oggi voglio vedere se c'è il soffitto Ok, c'è il soffitto Così, subito, subito Allora Vedi che comunque c'è questa mattonella un po' malmetta Sì, però non ci fa fare nulla No, non riusciamo a raggiungerlo Quindi secondo me ci serve una scala O qualcosa che ci permetta di salire fino al tetto Invece per la luce ci dice semplicemente che è accesa Ok, perfetto Non lo sapevamo Questo, secondo te, è 1, 0, 3 Oppure 1, 0, E Questo ce lo possiamo già prendere, perfetto Non so, ah ok, gli oggetti qua ci abbiamo così È un po' diverso dall'altro Allora, qua possiamo girare? No No, ci serve sicuramente quella chiave che ci permette di girare i bulloni Wow Ok, un biglietto Ma quante roba c'è qui? Prendiamo prima questo? Prendi tutto Allora, leggiamo un pochettino Allora Questa è semplicemente un'etichetta del, penso, tipo di candeggina Che dice Esatto Tenila lontano dagli occhi Se ti va negli occhi contatta il medico, insomma, le solite cose Di questo, alla fine Eh, sì, sì, penso sì Sì, esatto È di quello, però, boh A che ci servirà? Ok, non ho idea Controlliamo qui, no? Eh, giustamente Però ti volevo dire Sicuramente l'ustura lavandini serve o per il water O per il lavandino, proprio Dici di provare subito? Eh, sì, dai, perché no? Allora Prova su quello? No Ok, prova invece se si può aprire l'acqua o qualcosa del genere L'acqua calda, sì E pure l'acqua fredda Combina le Vediamo se succede qualcosa Acqua calda e acqua fredda Ok Mettici la soda Ok Mi stai piacendo No, non me la fa mettere Oggi sono un po' creativa Ho notato No, però lo apprezzo Mi piace quando sei così No, però da qua non ci possiamo fare nulla Lo lasciamo aperto Sprecchiamo un po' di acqua Dai, vediamo se magari nel tempo succede qualcosa Infatti, lo vedi? Sì, si vede aperto Secondo me sotto nel mobile Magari con le manopole Qualcosa si può fare con l'acqua aperta Poi controlliamo Però io voglio fare un tentativo Oh, è andato Mamma mia, Steph Non l'avevi mai detto Bello questo Mamma mia, Steph Eh, però Aspetta Ah Ok Che figata Che cos'è? Lo dovevi proprio spostare Il phone Spostare, sì, un phone Ok, allora Che ci servirà il phone? Sinceramente per ora Tutto volevo tranne un phone Se devo essere sincero Controlla il water un attimo La parte alta C'è una chiave C'è una chiave Ok A cui non possiamo arrivare per adesso No, no Non mi sembra la cosa corretta No, no, no Allora Questo è già qualcosa di molto particolare Cioè, ma aspetta Io avevo capito che eravamo chiusi in un bagno Ma con delle Con dei laser Non me l'aspettavo Un bagno un po' pericoloso Sicuramente abbiamo combinato qualcosa di grosso E ci hanno messo in sicurezza qui dentro Ok Perché Allora Non è normale C'è qualcosa di utile anche qui? Il phone Il phone nella parete Perché stacca La carta da parati Il phone Tecnicamente, no? Invece no No Vabbè Però mi è ripiaciuta Dai Troppo inventivo Esatto Allora qua possiamo spegnere e accendere la luce Vediamo È pieno di cose Allora Ok, quindi adesso questo Questo? No, l'altro, il phone Per scollare le cose No, sono fissata Ma perché sei fissata con sto phone? Scusami Perché vedi Tecnicamente Quando hai Ad esempio Sì Ti faccio un esempio Tu stai facendo Metti un lavoretto Ok Vuoi costruire qualcosa Ti sporchi la maglietta di colla Per staccarla Devi dare il phone E siccome questa è una sostanza simile alla colla Mi è sembrato giusto Ti ridere il phone Ok, vabbè Spiego le mie motivazioni Qua c'è della colla E magari qua Quindi sicuro No Neanche Vabbè Mi fanno mesare il phone Vabbè È totalmente inutile per adesso Allora Sono comunque Corrose Non è proprio colla È un po' più grave la situazione No, smettila Che lì prendi la corrente Non è una buona idea Ma quanto è grande? Ma sto bagno è infinito Vabbè Perché stai girando in tondo Capito? È una stanza Eh, lo so Però mamma mia È un super bagno di lusso Com'era il codice? 10S Secondo me 10? Ah, no Abbiamo staccato la corrente No, abbiamo spento una luce Non abbiamo staccato la corrente Eh, ma il generatore è rotto Quindi dobbiamo aggiustare questo Esatto Ok Perché la luce non c'entra nulla Secondo me con quello Qua ci sono dei tagli Ma sembra tutto inutile Nella doccia c'è qualcosa da fare? L'acqua da qui non scende Potrebbe essere un indizio Ok Contando che nel lavandino funzionava E qui no Potrebbe essere un buon indizio Lì ci devi mettere la soda Ah, no Aspetta Funziona Aspetta Cosa stiamo tirando fuori? Cosa tiriamo fuori? Non lo voglio sapere L'abbiamo rotto? Sì E allora aspetta E credo che sia una cosa positiva Non ne ho idea Tu cosa mi stavi dicendo di fare? Di buttarci la soda Nel water Nel water? Eh, qualunque cosa sia questa cosa Magari ho detto Lo pulisci Qui si vede qualche codice Invece no No, no cara niente E comunque anche questo foglio Nel momento in cui c'è Aspetta Dice che serve a pulire E bisogna combinarlo Ah, con l'acqua fredda o calda Ok Ok, 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 ok Allora quindi Secondo me Dobbiamo provare a mettere qua Solo l'acqua calda E poi a metterlo No? No Siamo dei geni No, allora Cioè Allora Era anche ovvio Che dovevamo tappare la bandina Questa volta Questa volta Dobbiamo proprio ritirarci No, cioè L'abbiamo scoperto Totalmente cliccando a casaccio Cioè Nenche ci abbiamo pensato È stata proprio una coincidenza Vabbè Vabbè Allora Voglio l'acqua calda Voglio questo Ok 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 E adesso L'acqua calda È al baking soda L'aspiriamo con Con questa Col bastone La raccoglie Cioè come la prendiamo Abbiamo bisogno di un recipiente Col bastone Era ovvio Cioè Infatti glielo ho appena detto Aspetta Pezzo di vetro Allora Col pezzo di vetro Cosa possiamo fare? Ragiona Col pezzo di vetro Il muro Il muro 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 Questo? Non questo L'altro Magari riusciamo a togliere Quella sostanza Direttamente col vetro Oppure qua Le cose corrosive Aspetta No No qualcosa serve però eh Beh cara Grazie Ma qualcosa serve per forza Lo dobbiamo trovare Molto perspicace Eh ma non lo troviamo Lo dobbiamo trovare Potrebbe essere Utilizzato Qua Come tap No? No non vi è piaciuta Questa idea Va bene E poi secondo me Va a combinare E allora lo mettiamo qui Neanche No ovviamente non serve Mamma mia Facciamo piccole scoperte Costantemente E non riusciamo a sfruttare Queste scoperte Allora ovvio Io ricordo Volevo di aver provato Questa cosa Eppure io A quanto pari invece Non l'avevamo fatto Allora Adesso che abbiamo messo Questa specie di cosa Come rimpiazzo Cosa ci manca da fare qua? Tirare lo sciacquone No Non c'è acqua? Allora Calmi Siamo a un buon punto Adesso ci dobbiamo arrivare Per forza Ok? E per forza sì Non sono più ammessi errori Allora Come funziona? Allora Dice che non c'è acqua Perché giustamente Dovrebbe essere Tipo pieno d'acqua Questo credo Ah Ok E come lo riempiamo d'acqua? Esatto La domanda C'è sempre quello Il problema Bellissima domanda Ci servirebbe Un recipiente Come sempre Continuiamo a non averlo Quindi il problema È sempre lo stesso La scorsa volta Il problema era il soffitto Questa volta era il pavimento Cliccando totalmente a caso Tutto il tempo Da ogni parte È uscita fuori questa Che finalmente È la chiave Che ci sei No vabbè Io non ho parole L'altra volta ci ha fregato il soffitto Prossimo escape Soffitti e pavimenti Subito Che controlliamo Sì ma Qua non va bene Cioè non l'avevamo neanche visto Scoperto totalmente a caso Ci proprimiamo come quelli bravi Negli escape Invece facciamo sempre schifo Guarda Non è possibile Sono questi troppo difficili Io te lo dico Allora Abbiamo questa chiave Secondo me Qui No 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 Secondo me il water Il water l'abbiamo visto Dai adesso è fatta Adesso è fatta Giriamo questo Quindi adesso Teoricamente qui c'è l'acqua Quindi tiriamo lo sciacquone È finita la chiave nel water Credo di sì Ma credo che sia una cosa voluta Giusto Ok perfetto Prendiamo la chiave Andiamo qua Lo apriamo Apriamo Luchetto Apriamo qui Eh ma è pieno di cose Allora Ecco il recipiente Guarda Questo può fare sicuro del recipiente Il resto lo lasciamo qui per ora Ok Proviamo Ah no c'è un biglietto Ok Allora Dice specchio nella parete Il collegamento tra queste due parti È facile da vedere Io non sono molto d'accordo C'è ma Allora aspetta Lo specchio nella parete No Capito Secondo me il pezzo di specchio che noi abbiamo Lo dobbiamo utilizzare da qualche parte Eh ma l'abbiamo provato L'abbiamo provato Faccio dovunque Fino a quando non lo troviamo Prendiamo tutto Spazzolino Eh cos'è questo È il filo interdentale C'è una lametta Non l'avevo vista Ok Ma quanti oggetti ci stanno dando Allora No siamo strapieni Aspetta ragiona Controllali Controlla il filo interdentale Se c'è qualcosa dentro No Guarda di nuovo questo dove c'è il biglietto Se lo possiamo usare come recipiente No ok Rimane il biglietto E allora Sì Lo spazzolino Sì Nel muro Nella parte corrosa Ma ci vuole comunque il Secondo me nella parte corrosa Qua Ma prima l'abbiamo provato Con l'acqua Sì ma non l'abbiamo provata A metterla Nello spazzolino Per poi surragare Ah dici Che tipo lo metti Sì Ok Andiamo nel muro Mamma mia Steph Perché a me è venuta anche un'altra idea Quindi muoviamoci No allora nella parte corrosiva No aspetta Perché devo prima cliccare No parte corrosiva Dice di provare qualcos'altro Quindi È qua E ti dicevo Guarda la lametta Per questo scotch Che magari lì dobbiamo collegare Da qualche parte No No Ok E quindi adesso se lo premi funziona Eh no perché sono bagnati Il phon il phon il phon il phon Bravissima Ok Oh sta funzionando tutto Ok Che bello E adesso Funziona e basta Ah ok Ok Funziona Sì Sì sono stati attaccati Quindi teoricamente adesso Abbiamo l'energia qua Sì Ok Quindi dieci è Proviamo Dieci è No Secondo me Era 103 No devi cancellare tutto 113 Dici Sì Neanche Allora Ok Ho capito una cosa Che noi dobbiamo specchiare questo Quindi E allora 301 301 Allora non abbiamo bisogno neanche dello specchio Esatto 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 300 Va bene Stef ce la puoi fare dopo domani No allora No allora sai che cos'è Ascoltami Sì Probabilmente nella parte di muro che non abbiamo grattato C'è l'altra parte del codice Capito Qui Sì No nell'altro Nell'altro Qui Sì vedi che c'è scritto qualcosa sotto Sì Quindi dobbiamo trovare il modo di eliminare questo Ok Mmm Mi dici poco Ah Ma anche questo secondo te è da specchiare Lì funziona Allora No è inutile questo specchio Inutile Ah Ecco Ok Ah Tramite lo specchio vediamo anche l'altro 45801 Giusto? Sì 45801 Abbiamo finito 45801 Ok Ok Secondo me abbiamo messo l'acqua qui Ok Ok quindi adesso noi mettiamo questa qua No non serve più a nulla Aspetta 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 Sì Io aspetto Io aspetto Cos'è che non abbiamo utilizzato Ok io sto aspettando Non abbiamo utilizzato il filo interdentale Certo Prova a metterlo nella vasca Perché è l'unica cosa che non abbiamo usato Questa è la mia logica Ma non è una buona logica cara È una logica perfetta Ma che logica è? Ti tiro da qualche parte Ma non lo fa usare Oh lo sapevo Non ci credo Non ci credo La classica cosa da film americana Con il phon sulla vasca E lo butti Abbiamo fatto un cortocircuito E quindi teoricamente abbiamo spento il laser Sì Ma così banale Noi pensavamo a cose Guardate in quanto siamo scappati Non vorrei dire però 28 minuti 28 minuti Che tristezza Dicevo pensavo a cose un po' più elaborate Invece era così banale Buttare il phon nella vasca Vabbè Che soddisfazione incredibile Guarda Sono strani Sono molto strani questi escape Perché sono molto diversi D'altri che abbiamo fatto Cioè devi proprio capito Pensare qualsiasi possibilità Anche la più piccola Sono davvero strani Fanno inervosire un sacco Mentre li giochi Però quando scappi è bellissimo Io voglio dirti una cosa Per soddisfazione incredibile Eri tutto il dannato episodio Con quel cavolo di phon Che lo volevi usare ovunque L'unica volta Che realmente serviva Dai ma secondo te Tu usi un phon per buttello Nella vasca Per fare un cortocircuito Certo Ma no Dai era troppo difficile da capire Era troppo difficile Io infatti Stavo provando un po' tutti gli oggetti Però mentre lo provavo Ho pensato Ma non è che Ed è successo Esatto esatto Un po' l'ho capito Un po' è stato un tentativo Comunque mi è piaciuto più questo Di quello della macchina Anche a me Perché era davvero difficile Pieno di oggetti È stato davvero una soddisfazione Finirlo Dove stiamo finendo Non cliccare nulla È stato davvero piacevole Come prossimo Probabilmente faremo Quello della prigione Ce ne sono tanti Ce ne sono tanti Quindi dovremmo scegliere C'è anche quello Dove bisogna scappare Da una stanza Completamente vuota Sì Che si chiama Empty room Ce ne sono tantissimi E' intrigante Sai cosa facciamo? Mettiamo il sondaggio Consolini Ok Tra Empty room Quindi scappare Da una stanza Completamente vuota O scappare dalla prigione Scegliete voi Facciamo il sondaggino In base a quello Che viene votato Noi facciamo Il prossimo escape Beh ragazzi Direci così Se ci sono già Sceglieteci un like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!